Ciao a tutti! Ciao! Dai! Ciao a tutti! Oggi sono qui insieme ai miei amici Peluche perché porteremo in giro Bia No, non c'è Alissa No, Alissa non c'è Allora, io e l'amica coniglietta porteremo fuori Bia Alissa non c'è in questo video perché lei ha deciso che oggi va a fare solo i compiti No, un po' ancora Ma non stavo registrando Che delicata Pronta con l'asciugamano? Sì! Oh no! No! Aiuto, questa è quella risata Aiuto! Alissa è una strega Allora, buona passeggiata Ciao! No, aspetta che te lo dico io Dai, vieni su Allora, buona passeggiata Ciao! Uffa! Uffa! Non ci vedo se vuoi rinforzare più Sì! Mi vuoi rinforzare più Sì? Ti impari? Allora Ciao ciao! Oltre che il mega slime Cioè, oltre che lo slime dei miei contro te No, solo dire del signore S Perché il signore S è tutto colorato I miei contro te sono cattivi E melmosi No, i tuoi sono venuti meglio Secondo... Ok Poff E guarda qui Questo zaino ha anche questa tua schiena per mettere... Ah no, è finta Ma che cosa? Ma ora ragazzi Aspettate che metto in pausa Perché c'è un'altra cosa Perfetto Oh no! Perfetto! E' già caduto per terra Ma c'è questa Che sì Ha i miei capelli Viale e la treccia Ma Sono uguali Oh no! Mamma mia! Oh ma che... Aspetta Non c'avevo le mani libere Ma questa l'abbiamo messa? No Aspetta Sto facendo cadere tutto Aiutami La buttata per terra Aspetta Aspetta Che lo voglio vedere Anch'io Ok Allora Guarda Con una sola mano Anche la sinistra No questa è la sinistra Da una parte ha gli occhi chiusi Sorride Giusto? No Aspetta Fammela vedere È perché non me la fai vedere Oh Dai Oh no! Sono Sono biancarella Tu sei scemetella E poi guardate Non mi ero accorta Che hanno anche delle altezze diverse Vedete che... Ops! Vedete che cadono subito? Vedete che questa è più bassetta Quindi questa potrei... Ah! Potrei sogargli la testa Sì Vediamo se Oh senti Vediamo Ah! Guarda Non so che ho più niente Eh la gona la devi mettere prima Quindi tiriamo fuori Tre piattini Tre bicchieri E tre tovaglioli Guarda a caso Ho tirato proprio tre bicchieri No sono quattro Pronto all'assaggio? Sì! Ma hai spaccato le orecchie Però magari esiste qualcosa di simile Se lo trovo Ve lo consiglio Cioè ma no Vabbè lasciamo bene Ma che ne so Qual te parlo Non so neanche quello che dico Tu hai detto C'è la tasca Amicia finta però Ah no Non è neanche una tasca È il vasetto È il vasetto Regina Regina Poi c'è scritto Lì c'è Ah! Ecco Eccolo il coniglie La moto che deve passare adesso Ma non è che le abbiamo prese troppo grandi Perché sai che non abbiamo guardato E infatti c'è scritto che è uno o tre anni No queste le dobbiamo andare a cambiare Alissa Le abbiamo prese troppo grandi per la sua testa Guarda Non ci abbiamo pensato Oh ciao io Io sono Chi è? Ma dai io sono chi è? Ok E perché non le ho ancora dato un nome Guarda Guarda Ok Sei matta Ciao Ciao Sono Alissa Che Che E allora c'è dove E l'hai stato male Dopo due Però continui Vedo non smetti Anche tu stai continuando No io ci provo a fare la serie Amaturi comincia a ridere Ciao Ciao Vuoi un passaggio? Sì Anch'io Anch'io Ehi No ma non c'è spazio per tutte E vabbè Ti sei tolta i capelli? Va via Ciao E' la mia macchina Vieni su Ma E questo cos'è però? È preso proprio l'unico che non so cos'è Vabbè Ora facciamo una spazio Aspetta Forse Ho capito Questo È un porta Accessori Per esempio Per la spazzola No? No Riporta in avanti Quel fermino Ecco qua Ecco qui Neanche per sogno Va bene Ci penso io Farò una bellissima magia Era una magia? Sì Così Ecco Vabbè Comunque ci giocheremo È questo Che si può staccare Tutto si può staccare Sì Ma questo è fatto apposta Forse è sbagliato No Sì Credo Non lo so Tutte queste cose Ops Perché ho sentito un ops? Niente Questo Aspetta Aspetta C'è un'avvertenza Cos'è? Non è Questa cosa Sì Non ammazzatevi Con la busta di plastica Ok Mettetevi vicino Mettetevi vicino A lui A lui A quello Guarda come rimbalza Dai Uffa Vallo lentamente E il mio E il mio wifi Perché sono Perché basta Sono tre ore Che lo dici Quante volte Devo ridere? Eh Cento volte Ok Vallo con calma Ancora Alissa Alissa è diventata Un disco rotto Lo fallo tu Perché io Continuerò a ridere Vabbè Mi vado a prendere Un caffè Ciao No 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 Si sono uniti Oh Perché è jelly Oh L'ho fatta Hai fatto una bolla jelly È rarissima Perché è rarissima Che ne so Ho detto una cosa a caso Che cosa è rarissima Ma lo posso trovare Tutti Wow Vieni qua Aprilo No il cactus Voglio la scatola Uffa Non me la fa Ma perché? No niente Fammela prendere Questo albero È decorativo Lo aggiungo Finto Perché se no È tutto finto Alice È un app Non è una vita reale Ma se era vero Quell'albero Nella vita reale Dopo Si rompeva tutto Giusto? Perché? Beh perché ha le foglie E quindi? E te lo porti Da un'altra parte Sì ma è dentro un vaso Sì vabbè Non le foglie Ma che le foglie Scusa eh Ok Un cesto Un piccolo cestino Può fare così È un cestino Che è collegato Non lo so Ad un'altra dimensione Vai dentro Dove è andata lì? È sparita Eccola Perché mi era caduto In cestero E l'ho detto lì Può rimetterci Il coperchio così Altrimenti lo può anche lasciare Tipo aperto In questa posizione Oh No anche no Beh ragazzi Questo video Degli errori È finito Speriamo di avervi fatto fare Tante risate Ciao E ci vediamo Al prossimo video E ci vediamo